Le azzurre del Ligor Gorgonzola Novara tornano in Final Four a due anni dal trionfo di Rimini, quando si imposero in semifinale proprio su Conegliano e in finale su Modena. La squadra è affidata da circa un anno a Marco Fenoglio e occupa le primissime posizioni nella Samsung Gear Volley Cup. Tra le giocatrici del roster, le icone Francesca Piccinini e Cristina Chirichella, si è qualificata alla Final Four grazie al doppio successo sulla 1-TMO My Busto Arsizio. Noi ci avviciniamo a questa Coppa Italia sapendo di avere una semifinale difficilissima. Giocando con Conegliano, Conegliano ha dimostrato l'altra sera da noi di essere una squadra schiacciassassi con un organico impressionante. Noi stiamo abbastanza bene, quindi credo che nella partita secca, dove la pressione è molto diversa da una partita di campionato, possa succedere qualunque cosa. Sicuramente è un appuntamento importante, a metà stagione, sicuramente sono partite secche, noi ci metteremo tutto quello che abbiamo e cercheremo di andare il più avanti possibile, andare in finale, cercare di fare un buon gioco. È una squadra che è la nostra, con un buon mix, cerchiamo di arrivare al top per i quattro. Affronteremo questa partita con tanta umiltà, con tanto lavoro, come abbiamo fatto questa settimana, abbiamo giocato sabato contro Modena, domenica eravamo in palestra ad allenarci. Quindi con l'umiltà di sempre, con il lavoro di tutti questi giorni e con un'identità. Sappiamo quanto valiamo, dobbiamo giocare al 100% e ce la giochiamo, è una partita secca, tutto può succedere. Noi ripartiamo soprattutto dal gruppo, dal gruppo col mister Fenoglio, con Stefano, col nostro staff. Noi ripartiamo da quello, è stata la nostra forza sempre, in tutti i momenti anche di difficoltà. E poi ci mettiamo dentro tutta l'umiltà e il lavoro.